Legittime le indagini sui procuratori aggiunti di Milano Armando Spataro e Ferdinando Pomarici per la fuga di notizie sul sequestro a Buomar. Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno dato ragione all'ex procuratore capo di Brescia Giancarlo Tarquini e ai due sostituti Antonio Cappani e Francesco Piantoni. Dunque hanno invece sbagliato i giudici del CSM che avevano pesantemente censurato l'operato dei magistrati bresciani compromettendone onorabilità e carriera. L'inchiesta a pomo della discordia era partita con l'esposto presentato dall'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, convinto che fosse stato violato il segreto di Stato. Per competenze il fascicolo era finito a Brescia perché coinvolti i magistrati milanesi. Una vicenda questa che aveva reso incandescente l'asse giudiziario tra la nostra città e il capoluogo. Con il CSM come arbitro che decise, valutati gli atti, di ammonire i magistrati bresciani dando soddisfazione a quelli milanesi. La Cassazione ora ha ribaltato la ricostruzione della vicenda ritenendo la sanzione ingiusta e ingiustificata. A Palazzo di Giustizia di Via Lattanzio Gambara la sentenza, seppur tardiva, è stata accolta con comprensibile soddisfazione. In particolare per i magistrati direttamente coinvolti, ovvero i sostituti Chiappani e Piantoni, e l'ex procuratore capo Tarquini che proprio a causa del provvedimento del CSM si era visto bloccare il trasferimento ad altro prestigioso incarico. Grazie a tutti.